Si infervora lo scontro politico a Tortora, protagonisti ancora una volta della bagarre pre-elettorale l'assessore all'ambiente Franco Chiappetta e il consigliere di minoranza Raffaele Papa. Questa volta però la polemica è iniziata sulla pagina Facebook del gruppo politico Tortora nel cuore di cui Papa è capogruppo e si è trasferita in via panoramica al porto, sede del municipio di Tortora. Al centro la raccolta differenziata. A far tuonare l'assessore all'ambiente è un commento lasciato da qualche simpatizzante di Tortora nel cuore sulla bacheca del gruppo. La differenziata la facciamo tutti ed ognuna a casa sua. Non sapevamo che l'assessore girasse per le case a raccoglierla ed è buono a sapersi. Se abbiamo difficoltà lo chiameremo visto che la spazzatura è cosa sua e nessuno la può toccare. Un commento offensivo ha risposto Chiappetta che mette in mostra i metodi denigratori usati dal gruppo Tortora nel cuore. Se Papa e i suoi si riferiscono alle scelte talvolta impopolari messe in campo dal sottoscritto per tenere pulito il paese sappiano che di quelle mi vanto. Per il resto, ha chiusato ironicamente l'assessore, potrei anche prendere in considerazione la possibilità di andare casa per casa a raccogliere la spazzatura. Potrebbe essere un modo per farmi campagna elettorale. La discussione si è poi spostata sui mezzi usati per la raccolta dei rifiuti che secondo il gruppo TNC sono abbandonati da anni. Ma quelli non interessano perché non si differenziano. Sono qui per lavorare, ha concluso Chiappetta, non per stare dietro ai inutili polemiche cui non voglio dare spazio. Se Papa e i suoi vogliono continuare ad avvelenare il clima politico facciano pure, ma non credo che questa tattica pagherà. In materia di gestione dei rifiuti, Tortora è un esempio per gli altri comuni dell'Alto Tirreno-Cosentino. Siamo gli unici a non essere stati toccati dall'emergenza, quindi invito TNC a riflettere prima di parlare. Quindi si entra nel vivo della campagna elettorale che a quanto pare trova terreno fertile anche sui social.